Trovata in campagna una variante del Covid-19 mai descritta prima in Italia. La scoperta nell'ambito di una ricerca dell'Istituto Pascale e dell'Università Federico II di Napoli, finanziata dalla Regione. Il caso è quello di un professionista di ritorno da un viaggio in Africa, che dopo il tampone è risultato positivo al Covid-19. Di questa variante al momento non si conoscono il potere di infezione né altre sue caratteristiche, come accade per molte varianti rare del virus. Si chiama B1-525 e fino ad oggi ne sono stati individuati soltanto 32 casi in Gran Bretagna, oltre a pochi casi in Nigeria, Danimarca e Stati Uniti, mai finora in Italia. Si tratta, ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca, di una scoperta di straordinario valore scientifico, un risultato tempestivo e utilissimo che conferma l'importanza di aver finanziato questi studi, la necessità dell'adozione di misure straordinarie e nazionali da parte del Governo per non vanificare il programma di vaccinazioni che è pienamente in corso e che rende ancora di più indispensabili le forniture dei vaccini necessari per fronteggiare l'epidemia, conclude così il presidente Vincenzo De Luca. La nuova mutazione è simile alla variante inglese B117 e contiene una serie di mutazioni che dessano allarme tra gli esperti, compresa la mutazione E484K sulla proteina Spike, che si trova all'esterno del virus e che gioca un ruolo importante per l'ingresso del virus nelle cellule. Questa mutazione è stata anche trovata nelle varianti sudafricane e brasiliane. Sono allo studio eventuali risposte negative all'azione anticorporale dei vaccini. La sequenza del campione giunta a noi dal policlinico federiciano, spiega Nicola Normanno dell'Istituto Pascale, ci ha subito insospentiti perché non presentava analogie con altri campioni provenienti dalla nostra regione. Dopo un confronto con il gruppo del reparto zoonosi emergenti dall'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo avuto la conferma che si tratta di una variante descritta finora in un centinaio di casi in alcuni paesi europei ed africani, ma anche negli Stati Uniti. Abbiamo immediatamente depositato la sequenza nel database internazionale G-SIDE ed avvertito le autorità sanitarie. Sono infatti immediatamente partite tutte le procedure previste, a cominciare dal tracciamento dei contatti.